Si scrive WES, si legge, Weekend Summer adotta un artista. Un viaggio ideale nello scenario di Polignano a mare, unico nel suo genere, attraverso l'arte in tutte le sue forme, dalla pittura alla fotografia, dalla videoarte ai concerti live all'enogastronomia. Tre giorni fino a domenica passando da una location all'altra, Palazzo San Giuseppe, ex Museo Pascali, nel Borgo Antico, il magico atelier di Peppino Campanella, con opere d'arte allestite sulla terrazza facciata su uno degli scorci più belli del paese di Modugno, Lama Monachile. Un viaggio tra 40 artisti e la ricerca dello stupore a chilometro zero, grazie al lavoro dei giovani di Agarti, neonata officina culturale per cercatori d'arte presieduta da Giuliana Ricci e dalla Pro Arts di Raimondo Cucciolla, sposata in pieno dal sindaco Vitto e dall'assessore alla cultura Abate Paolo. Abbiamo tantissimi artisti che vengono da Roma, dall'Austria, che vengono adottati dai locali di Polignano a mare, come i ristoranti che hanno deciso di partecipare. Alle mie spalle c'è il quadro di Guido Cattoli, che è un artista romano, e abbiamo tantissime persone di Polignano come Peppino Campanella, che ha offerto in maniera del tutto gratuita e affettuosa la sua terrazza come polo espositivo. Un modo di vivere Polignano immergendosi tra gli artisti presenti all'esposizione, allestita da Paolo Galesi e nella creatività nelle sue diverse sfaccettature.